Benvenuti cari follower. Se domani, martedì 7 novembre 2023, in queste zone d'Italia dovessero tornare pioggia e neve. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di supportarci mettendo mi piace a questo video, iscrivendovi al canale e attivando la campanella su tutte le notifiche. Quindi da domani, martedì, piogge molto forti e maltempo al centro-sud e all'estremo nord-est italiano, precisamente nelle zone all'interno del cerchio rosso. Queste piogge saranno più intense in serata. Domani, martedì, cadranno quindi forti piogge sulle marche meridionali di Umbria, Abruzzo e Molise Laziale, varie zone delle coste della Campania e della Sardegna, precipitazioni da deboli a moderate in Liguria, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Veneto. Sono previste abbondanti nevicate alle medie quote su Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia e Valle d'Aosta. La neve sarà più forte e più densa a nord del Trento, Alto Adige e del Friuli, Venezia, Giulia. Il suo spessore varia da 5 a 40 centimetri. Con una forte ondata di freddo, aspettiamo che nei prossimi giorni arrivi un'altra tempesta più potente, di cui vi forniremo i dettagli in seguito. Alla fine possiate rimanere in buona salute.